Il prossimo 15 settembre la Vénière sarà regolarmente al suo posto, ed al timone di una nuova edizione di Domenica in, stando ad alcune sue recenti dichiarazioni, questa dovrebbe essere l'ultima per lei. Una scelta quasi obbligata e questo anche a causa di alcuni problemi di salute che di recente sono divenuti anche più seri. La conduttrice ha infatti parlato di un grave problema agli occhi non ancora risolto come rivelato dalla stessa conduttrice. Dopo un po' si è accorta di non vedere più nulla dall'occhio destro, e questo ha poi costretto la Vénière ad un intervento d'urgenza. Un'operazione necessaria che però non ha a quanto pare risolto del tutto il problema. La conduttrice è infatti specificato. Ora vedo qualcosa. Ma ancora molto sfocato. La Vénière sarà quindi in onda nei prossimi giorni, ma allo stesso tempo dovrà affrontare ancora nuovi ostacoli. Nel corso dei prossimi mesi, dopo aver subito già cinque operazioni, dovrà infatti finire di nuovo sotto i ferri. Non è ancora chiaro il motivo dietro questo problema, ma potrebbe essere legato allo stress. Per questo la conduttrice, adesso prende in seria considerazione l'ipotesi di lasciare domenica, in al termine della stagione il prossimo mese di giugno.